Nella scorsa puntata dello Zabaglione vi ho parlato di Donald Trump e del perché Donald Trump a mio avviso è un personaggio così profondamente odiato negli Stati Uniti. Vi ho raccontato di un caso, quello del Boeing 737 Max, per spiegarvi perché Trump è considerato pericoloso da quello che viene definito l'establishment. In questa nuova puntata invece, parlando ancora di Donald Trump, ci preoccuperemo di quello che succede da questa parte dell'oceano, e cioè della manipolazione dei fatti. Quanto le informazioni che riceviamo e quello che pensiamo di sapere rispetto a ciò che accade oltreoceano e in particolar modo rispetto a ciò che accade quando è Trump ad intervenire in un discorso pubblico è vero. Quanto invece è frutto di spregiudicata manipolazione dei fatti che serve per far passare Donald Trump come un mostro? Non ci credete che questo accade? Ebbene, sono qui per dimostrarvelo. Oggi infatti parliamo del Donald Trump che è stato costruito dai nostri media. Non di quello vero, ma delle immagini che ci viene raccontata di lui. Qualche anno fa, a ridosso delle scorse elezioni americane, io ho iniziato a leggere molti libri che riguardavano Trump e il Trump visto dagli americani, finché non mi sono imbattuto in questo piccolo libretto qui. Ebbene, questo libretto, la lingua di Trump, è scritto non da un americano, ma da una signora francese che di mestiere fa la traduttrice, quindi il suo lavoro è tradurre in particolar modo i discorsi dei politici. È un'inviata negli Stati Uniti e quindi lei traduce ciò che dicono i politici americani e lo traduce ovviamente in francese, in modo da rendere disponibili i loro discorsi al pubblico francese che in patria segue ciò che accade negli Stati Uniti d'America. Come lei, ovviamente, ci sono traduttori italiani, tedeschi, insomma di tutte le nazionalità e di tutte le lingue. Ora, questo libro mi ha fatto tremare i polsi e adesso voi con me scoprirete il perché. Per spiegarvelo partiamo da un aneddoto, un aneddoto che spiega tutto e che viene descritto in questo libro, perché questa traduttrice si trova a dover fare il suo lavoro durante la presidenza Trump e si trova quindi a dover seguire Trump, tradurre quello che dice, per poi inviare le traduzioni ai giornali francesi. La nostra traduttrice ci racconta di un episodio che spiega tutto. Siamo al 14 luglio del 2017, come è noto il 14 luglio è festa nazionale francese. In quell'occasione Trump si trovava a passare da Parigi, dove presidente c'era Macron. Come spesso accade in queste visite istituzionali, Trump si presenta con la first lady e Macron anche con la sua moglie, o come la chiama qualcuno, ma moglie. La nostra solerte traduttrice racconta quello che accade in quella occasione. Trump e la moglie incontrano Macron e la moglie, Brigitte Macron, e Trump, guardando quest'ultima, la moglie di Macron, esclama, you are in such good shape. Dopodiché si volta verso il presidente francese e ripete al marito, she is in such good physical shape, e infine si volta di nuovo verso la signora Macron e ripete beautiful. Ora, non c'è bisogno di essere degli insegnanti d'inglese per ascoltare queste parole e comprenderle. Quello che dice Trump è, oh, ma lei è in gran forma. Si gira poi verso il marito della signora Macron, cioè verso il presidente Macron, gli dice, ma lei è in una gran forma, in una smagliante forma fisica. Poi si rigira verso di lei e dice, bellissima, questo è quello che Trump ha detto. Però, secondo la nostra traduttrice, non si può, anzi non si deve, tradurre queste parole di Trump in questa maniera. E lei ci spiega anche il perché. Ci dice che la traduzione letterale, in questo caso, è sbagliata, perché non è quello che voleva dire Trump. Lo dice lei stessa, lei dice, you are in such good shape. Trump può significare, lei è in splendida forma, come in effetti tanti hanno tradotto. Parola per palola, letteralmente, pressapoco questo è il concetto, dice la nostra autrice. E si potrebbe anche tradurre così. Se queste parole fossero state dette da qualcun altro però, non da Trump. Ecco, magari un fisioterapista al suo paziente, un professore di educazione fisica al suo alunno, un genero alla suocera. Insomma, ci sono molte possibilità in cui questa traduzione, lei è in splendida forma, sarebbe corretta, ma non se riguarda Trump. In questo caso, infatti, l'espressione you are in such good shape non può essere tradotta con lei è in forma. Perché bisogna considerare il contesto. Il momento è la personalità del locutore, Trump, cioè un uomo apertamente sessista, che si vanta di prendere le donne per la fica e le disprezza al punto da insinuare che una giornalista possa essergli ostile perché ha il ciclo. Un uomo capace di denigrare una rivale all'investitura repubblicana perché la trova brutta. Insomma, quando si conosce l'uomo e il suo maccismo cronico, si è obbligati a tenerne conto e ogni traduzione letterale diventa impossibile. Ma in che senso ci sta forse dicendo che siccome queste parole le dette Trump vanno tradotte in un'altra maniera? Andiamo avanti perché si fa croccante la faccenda. C'è un'altra cosa da considerare, dice la traduttrice, oltretutto. Trump non fa mistero di preferire le donne giovani e belle. Tanto da arrivare a dichiarare che se Ivanka Trump, la figlia, non fosse sua figlia per l'appunto, uscirebbe con lei. Questo perché Trump fa parte di quegli uomini e di quelle donne secondo cui una donna può essere bella solo finché è giovane. Oltre una certa data si guasta, diventa invisibile e non rientra più nella categoria delle donne desiderabili. Ora, è noto che la signora Macron ha un'età abbastanza avanzata e ha superato da un bel pezzo la sessantina, nel momento in cui ha suscitato l'ammirazione esterrefatta di Donald Trump. Una vecchia signora che somiglia comunque ad una donna. È pazzesco, deve aver pensato Donald Trump. Oltretutto aver visto una sessantenne che sembra una donna deve aver scalfito una certezza granitica e ben radicata nella testa del presidente americano, considerando anche che è uno che non è molto il tipo di ripensamenti. Così, mettendo tutto insieme e considerando tutte queste cose, quel you are in such good shape, potrebbe essere tradotto come un «ma come si mantiene bene nonostante la sua età, ma lei è ancora niente male tutto sommato». In sostanza uno stravolgimento di quello che Trump ha detto. Questa traduttrice ci sta dicendo nero su bianco e lo scrive in un libro pubblicato a suo nome che le traduzioni che fa non sono traduzioni di ciò che i politici dicono, o almeno questo non vale con Donald Trump, ma sono sue interpretazioni dei pensieri non espressi dal signor Trump che lei inserisce liberamente nella traduzione in modo tale da alterarne il contenuto e ottenere una cosa diversa e difforme da ciò che originariamente aveva detto il presidente. Non so se vi rendete conto, ma qua ci stanno dicendo che le traduzioni di Trump, almeno in qualche caso, sono completamente manipolate e servono per inserire dei pregiudizi, dei traduttori, all'interno delle parole pronunciate dall'ex presidente. È una cosa di una gravità inaudita, ovviamente, perché questo stravolge completamente il senso di ciò che aveva detto Trump. Quindi la traduzione a questo punto non è più un mezzo che serve per portare a conoscenza di una popolazione che parla una lingua diversa, di ciò che è accaduto da un'altra parte nel mondo o comunque esprimendosi in un'altra lingua. La traduzione fatta così è uno strumento politico che serve per influenzare l'ascoltatore manipolando la realtà e facendogli credere che sia vero qualcosa che in realtà non è mai successo. Intendiamoci, non è solo questo il caso, ci sono altri noti casi come questo che riguardano anche altri personaggi. Pensate, per esempio, al famoso discorso fatto da Boris Johnson durante il Covid. Quel famoso discorso che fu riassunto nelle parole «preparatevi a vedere i vostri cari morire». Non so se ve lo ricordate, ma in Italia fu passato questo messaggio. Quel pazzo di Boris Johnson ha detto agli inglesi che lui non farà niente, lui non muoverà un dito. Gli inglesi si devono abituare all'idea che molti di loro moriranno perché il paese non si può fermare. Il Covid farà ciò che dovrà fare e tutto andrà avanti naturalmente come se fossimo in mezzo alla giungla. Tutto questo, tra l'altro, veniva raccontato mentre si cercava di far percepire agli italiani un Boris Johnson negazionista, come si diceva ai tempi, che in realtà si rifiutava di credere che il Covid fosse davvero una malattia grave. Tanto che, se vi ricordate bene, a un certo punto lui venne infettato, finì in ospedale e tutti qui lo prendevano in giro dicendo «Ma come Boris Johnson non credeva al Covid e adesso invece è finito anche in ospedale?». Ebbene, anche in quel caso era una traduzione falsa. Il discorso di Boris Johnson aveva tutt'altro intento e diceva una cosa completamente diversa. Riconosceva innanzitutto la pericolosità del virus, contraddicendo così completamente una narrazione di un Boris Johnson negazionista e complottista che non credeva agli effetti del Covid, diceva che sarebbe stata una sfida dura, che gli inglesi avrebbero dovuto superare questa sfida dura e che in questa sfida dura avrebbero anche visto i loro parenti morire e dovevano essere pronti a questa evenienza proprio perché la sfida era grande, il Covid mordeva e il paese doveva reagire. Era esattamente l'opposto di ciò che veniva spacciato in Italia quel discorso. Ora, io non vorrei essere tacciato di fare la solita dietrologia becera, anche se nel caso non mi interessa se qualcuno lo pensa, ma su una cosa devo riflettere. Io non ho mai avuto la possibilità di vedere un discorso dei leader considerati dalla parte giusta, cioè quelli non populisti, non anti-establishment, manipolato in questa maniera. Non mi è mai capitato di sentire un discorso di Ursula von der Leyen manipolato in modo tale da renderla ridicola. Non mi è mai successo con nessun altro leader che non siano quelli considerati populisti. Anzi, 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 anzi. Quando sono scomode certe traduzioni neanche vengono fatte. Vi ricordate quando Mario Monti, intervistato da una trasmissione televisiva straniera, raccontò che loro stavano distruggendo la domanda interna italiana? Ecco, non fu tradotta se non da qualche persona sul web che se ne accorse e la mise su YouTube. Ed evidentemente questo ci porta ad interrogarci su ciò che leggiamo nella nostra lingua quando si riferisce a cose la cui lingua magari non conosciamo e ci induce a magari attrezzarci. Ora, non tutti possiamo conoscere tutte le lingue, l'inglese magari è più facile di altre, però ci sono gli strumenti. Ormai c'è l'intelligenza artificiale, ci sono i traduttori di Google e delle altre piattaforme. Quindi vi invito, quando potete, ad accedere all'informazione originale, perché altrimenti quello che rischiate di leggere è la spazzatura che esce da persone come questa. Questo è quello che avevo da raccontarvi per oggi in questa puntata dello Zabaglione. Lo so, è un qualcosa di inquietante, ma questo è il mondo in cui ci troviamo. Vi ricordo che se vi piace quello che faccio, l'invito è quello di abbonarvi. Siamo quasi in 3.000, l'abbonamento base costa 1,99€ al mese, un caffè e mezzo al mese. Spero che per voi sia accessibile. Sappiate che per me però è tutto, perché con le cose che dico, non essendo politicamente corrette, certamente non posso avere sponsor, ma il mio sponsor siete voi attraverso gli abbonamenti. Trovate quindi il pulsante qua sotto per abbonarvi se volete farlo, fate conoscere ai vostri amici lo Zabaglione e tutti gli altri miei format. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima! Grazie a tutti!